scusate gli occhiali ma abbiamo il sole proprio di fronte ci piaceva questa location abbiamo deciso di metterci qua a fare questo video oggi benvenuti in questa puntata oppure ben ritrovati in questa rubrica di un'avventura chiamata motociclismo è un po che non facevamo questi appuntamenti quindi per chi dovesse capitare per caso su questo video andate a vedervi un minimo la playlist per capire di cosa stiamo parlando in questa decima puntata parleremo dei sistemi di sicurezza che ci sono sulla moto ma ringrazio ovviamente tutti quelli che mi hanno scritto sotto i commenti che mi hanno dato lo spunto per fare questo video questo soprattutto grazie a chi oggi mauro di costanzo mauro di costanzo che proprio ci ha fatto una domanda specifica non è stato l'unico però no non è stato l'unico anche sotto altri video spesso mi è stato chiesto il funzionamento come domanda diretta e ho risposto brevemente per quanto si possa rispondere sotto i commenti ma finalmente abbiamo deciso di fare un video un pochettino più approfondito cosa abbiamo ora come sistemi di sicurezza parliamo dei sistemi di sicurezza più conosciuti abs abs cornering frenata combinata traction control e probabilmente basta al momento non ce ne vengono in mente altri tra i più diffusi ovviamente ognuno di questi ha varie sfaccettature e varie personalizzazioni in base alle case costruttrici delle moto allora partiamo con l'abs il sistema forse più conosciuto il sistema più più diffuso antilock brake system che pronuncia antilock braking system che pronuncia che pronuncia non è nient'altro che un sistema di antibloccaggio delle ruote qualora ci fosse un una frenata improvvisa un terreno sdrucciolevole quindi le moto le gomme le ruote vanno a bloccarsi questo sistema andrà a regolare questa frenata anche sul bagnato e in fuoristrada insomma quando si bloccano si attiva questo sistema di sicurezza eviterà che la ruota si blocchi la sensazione per chi non l'avesse mai sentita è proprio un tremolio un uno scattare delle leve sia dell'anteriore sia del posteriore quando da scatti e una frenata scatti come ci si comporta in questo caso in questo caso quando parte l'abs ricordiamo che la frenata si allunga proprio perché andrà ad intermittenza per evitare il bloccaggio ed eventuali cadute e proprio in questo momento e noi dobbiamo affondare con tutta la forza sui freni dobbiamo proprio aggredire tra virgolette i freni non dobbiamo farci spaventare se volete fare una prova trovate una zona come può essere un parcheggio un garage in tutta sicurezza quindi che non ci sia traffico e provate magari con un po di umido o su un po di erba su un qua per esempio intorno a noi c'è molta breccia in giro e provate a bassa velocità e vedere cosa succede poi in realtà è il medesimo sistema montato anche sulle automobili no da ormai da stesso praticamente sistema montato sulle automobili e si può dire che è derivato in realtà è proprio derivato dalle automobili quindi se non l'avete mai se non avete mai avuto l'occasione di sentire cosa succede secondo me è bene provare giusto perché in caso di emergenza sapete la sensazione che vi smette sapete come gestirla direi che per l'abs tradizionale possiamo finirla qua ovviamente ci sono moto sulle quali possiamo regolare questo abs o addirittura togliere l'abs per esempio sulla mia fregato in lo posso togliere solo sul posteriore a mi viene da dire una cosa ci sono moto dove l'intervento dell'elettronica è molto più invasivo invasivo e moto dove invece è tarato in maniera meno invasiva io che ho la fortuna anche antonio che la fortuna di provare tantissime moto proprio grazie alle nostre attività e mi sono reso conto che ci sono moto dove appena accenniamo partono tutti controlli e moto come per esempio la mia africa twin e devo dire che quando l'ho provata che era un po scettico e all'inizio quando l'ho dovuta sostituire e cercare una moto nuova non mi piacevano tutti questi sistemi però provando varia moto ho visto che l'africa twin era veramente tarato come dico io proprio per il fuoristrada quindi i sistemi di controllo intervengono proprio al limite quando è portato al limite ai freni o anche il traction control nel mio caso e quindi ci sono varie tarature o meglio varie tarature diciamo che ci sono moto un pochettino più come si può dire invasive sì più invasive l'abbiamo detto prima più invasive e moto dove dove il sistema è più ci fa sfruttare di più le nostre capacità andiamo avanti cos'è c'è ovviamente l'evoluzione l'abs cornering l'abs cornering tra l'altro è stato introdotto da bosch e collegato ai vari sensori della moto e oltre a leggere la velocità della ruota quindi capire se si sta per bloccare o meno va anche a leggere l'inclinazione delle mo della della moto in maniera tale da regolare la frenata anche in base alla curva perché ovviamente la situazione più critica di quando si va a bloccare un freno è proprio quella della curva l'abs cornering va a leggere l'inclinazione della moto e va a parzializzare per bene questa frenata così da avere una sensazione meno brusca ma soprattutto la sensazione che abbiamo quando guidiamo per lo meno quello che ho notato io è che con l'abs normale se dovesse partire in curva abbiamo questa sensazione che la moto si raddrizzi con l'abs cornering la moto riusciamo a mantenerla nella nostra traiettoria l'abs classico è un intervento più che altro meccanico sì è proprio meccanico c'è la proprio sensazione meccanica il cornering è più elettronica esatto perché legge proprio velocità inclinazione quindi c'è proprio una piattaforma che gestisce decide dove gestire più o meno la frenata esatto diciamo anche come come gestirla appunto l'ingresso dell'abs nelle varie situazioni tipo pioggia nel senso se va ricercato l'intervento o meno dell'abs si ho capito cosa si intende esempio se è bagnato in moto stradali tu mi consigli di tenerlo attivo di non tenerlo attivo di utilizzarlo ok ok allora ne parliamo alla fine che queste sono domande che secondo me si sono domande che mi vengono fatte soprattutto nei corsi controlli attivi o controlli disattivi come dico sempre i controlli sono lì per aiutarci ovviamente ci saranno delle occasioni dove sarà meglio toglierli ma adesso ne parliamo facciamo prima questo riassunto di tutti questi sistemi poi vi dico un po le mie impressioni e poi dove secondo me è meglio disattivarli o tenerli attivi allora della bs corner che ne abbiamo parlato adesso parliamo della frenata combinata che è stata proprio la domanda che ha fatto sì la registrazione di questo video che ci ha dato lo spunto per fare questo episodio allora adesso leggo leggo proprio perché per tenere il filo logico del discorso oggi abbiamo preso mi sono preso esatto mi sono scritto degli appunti così non vado fuori tema allora la frenata combinata o frenata integrale è un brevetto moto guzzi e brembo e intorno agli anni 70 allora perché questa introduzione era un sistema per agevolare il motociclista nelle condizioni un più un po più complicate parliamo di moto stradali all'epoca e la condizione più complicata ovviamente era gestire queste moto particolarmente pesanti con questi freni anche a volte importanti grossi potenti ma non molto modulabili era proprio la gestione della frenata in curva quindi moto guzzi e brembo brevettono la frenata combinata o frenata integrale come funzionava in realtà come funziona ancora adesso su molte moto azionando la pompa freno posteriore agiva sul freno posteriore e su un disco anteriore quindi avevamo questa c'era e c'è questa frenata combinata parzializzata prima ovviamente soltanto da questa pompa idraulica adesso c'è anche l'elettronica che ci aiuta sui due freni per avere una frenata ovviamente più aggressiva si azionava anche la pompa freno anteriore che andava a girare erano tre pompe tre pinze erano tre pinze e con un intreccio di tubi se non stiamo qua a spiegare esatto ovviamente la tecnologia va avanti e quindi sistemi sempre più raffinati azionando il freno anteriore andava ad agire sull'altro disco rimanente che non stava funzionando in quel momento quindi c'era una frenata integrale e molto potente pro e contro di questo sistema il contro il pro ovviamente per i motociclisti dell'epoca che ricercavano sicurezza e facilità di guida sicuramente era un pro diverso era per invece il motociclista esperto che non lasciava spazio a quella guida un pochettino più sportiva a quella guida più ricercata quella guida più di fino perché appunto non potevamo gestire noi per bene i freni io durante i corsi chiedo prima di iniziare il corso quali freni usi come li usi proprio per capire se l'allievo che ho davanti in quel momento sa bene l'utilizzo dei due freni e quindi spesso mi trovo ad addestrare a spiegare a far fare delle prove singolarmente su uno dei due freni sul freno o anteriore o sul freno posteriore perché magari non viene utilizzato o viene utilizzato magari nella maniera scorretta quindi facciamo dei corsi durante il corso con degli esercizi specifici su come utilizzare i freni questo sistema viene poi un po abbandonato proprio per questo motivo complessità dell'impianto frenante poca gestione da parte del pilota e viene un po abbandonato ripreso poi raffinato e da bmw dandogli il nome di integral abs con l'aiuto e l'avvento dell'elettronica bmw prende a far parte di questo sistema lo personalizza lo perfeziona e lo mette sulle moto un po più adatte all'uso turistico e per esempio anche molto diffuso sugli scooter sulle moto da viaggio difficilmente troveremo un sistema del genere su moto da fuoristrada e su moto pistagliole da corsa mi viene da pensare quindi che l'intervento della frenata combinata anche in emergenza faccia sì che la moto non si scomponga a questo punto esatto la moto non si scompone ma io direi che ora con l'utilizzo dell'elettronica con queste piattaforme che abbiamo sulle moto che va a gestire e ripartire in base alle condizioni in base all'inclinazione in base a un sacco di parametri che vengono calcolati in quell'istante ripartisce la frenata un po sempre come le macchine anche questa cosa probabilmente è stata derivata dalle macchine con queste frenate integrali giusto per parlare ricordo che la frenata avviene sull'anteriore la forza frenante avviene sull'anteriore e con il posteriore bilanciamo chiudiamo la curva insomma riusciamo a fare una guida un po più un po più fine o recuperare più pulita recuperare da una curva presa un po larga tutto questo non si riesce a fare con libertà con le frenate integrali la frenata integrale in teoria ci aiuta a tenere la moto stabile precisa sempre dove vogliamo ma se vogliamo avere una guida un po più personalizzata o magari un po più sportiva un po più brillante rimanendo sempre all'interno del codice stradale la frenata combinata o abs integrale integra l'abs di bmw potrebbe essere un po meno sensibile a questo fattore personale di guida andiamo avanti parliamo del traction control il traction control lo dice la parola è un controllo di trazione inizialmente il traction control come funzionava era un po più meccanico o meglio era montato solo sulle moto che avevano l'abs sfruttava quei sensori per ascoltare per registrare la velocità delle ruote delle due ruote e andava quindi ad agire sull'accensione delle candele quindi cosa succedeva quando si accelerava o la potenza è tanta e quindi andiamo a pattinare anche sull'asfalto o magari sul bagnato o su zone sdrucciolevoli andava a tagliare completamente l'accensione delle candele quindi proprio la potenza e che poi per esempio la mia africa twin è così la mia tenereno la tua non ce l'ha proprio e per esempio la tuono addirittura ha il traction control elettronico elettronico ma lo può utilizzare in percorrenza di curva è certo quella è già una derivazione sportiva quindi per chi va in pista ovviamente ma adesso ci arriviamo quindi l'abs il traction control tradizionale o meglio quelli un po più vecchi leggendo la differenza di rotazione delle ruote sfruttando il sistema abs andava a tranciare letteralmente la corrente quindi la sensazione anche in quel caso è che la moto faccia di spegnimento quando stiamo spalancando il gas scivola la ruota posteriore inizia a pattinare al posto di avere una sensazione modulare proprio tronca simulando quasi uno spegnimento spegne proprio le candele che poi la moto non si spegne ovviamente ma la sensazione è proprio quella di bloccarsi questo sistema ha il vantaggio di essere precisissimo ma lo svantaggio di essere poco confortevole ci sono moto come la mia dove questo sistema più un po più vecchio viene gestito anche da un regolatore io posso gestirlo al massimo medio minimo oppure su vari livelli su vari livelli o tre livelli più l'off mettendola al minimo cosa succede riusciamo a fare quella derapatina in accelerazione quando è un po troppo non farà mai scomporre la moto più di tanto e mi taglia la potenza è proprio una sensazione ricordo quando abbiamo fatto il video di come frenare in moto con la tua sì che io poi andavo ah che tu non la sapevi che era attivo è vero questo sistema tra l'altro non ci fa impennare proprio perché legge questa differenza di velocità e non ci fa impennare taglia proprio la potenza taglia la potenza quindi sulla mia quando ci si dimentichi che magari vogliamo fare un po' gli splendidi proprio andiamo a impennare badabam atterriamo subito senza alzarsi in un centimetro ti dà quella sensazione di come quando alle vecchie due tempi terminavi la benzina ma anche alle quattro leggi allora quindi molto preciso ma brusco recentemente ormai da un bel po' di anni grazie al sistema di acceleratori elettroniche piattaforme inerziali questo sistema non va più ad agire sulle candele ma a un vero e proprio regolatore dell'acceleratore quindi andrà a parzializzare la potenza addirittura quasi non ci accorgeremo che è partito questo traction control chi ha la guida più sensibile se ne accorge chi ha la guida meno sensibile di solito appare una spia lampeggiante gialla che ci sta avvisando appunto che sta perdendo aderenza sul posteriore non agisce sulle candele agisce sull'elettronica dell'acceleratore quindi acceleratori elettronici non a cavo e quindi sarà molto più confortevole se così vogliamo dirlo molto meno brusco sempre basandosi sull'utilizzo che ci si fa dalla moto assolutamente sì sulla tipologia di moto ovviamente anche di guida di fondo potenze della moto ovviamente e quindi ci garantirà più comfort e anche lì il pilota più esperto può regolarsi il traction control come meglio gli piace io ho provato un traction control al minimo ultima evoluzione non mi ricordo se sull'ultima Africa Twin messo al minimo ci fa fare delle impennate così tanto da terra stabili oppure delle belle derapate in fuoristrada senza tagliare la potenza quindi senza scomporci tra virgolette anzi rimetterci in assetto bruscamente ma riuscire a fare queste pennellate dolci da ignorante si apre il gas io ne so qualcosa di ignoranza di guida non solo le piattaforme più moderne i traction control più moderni vanno addirittura a leggere il cambio di diametro della ruota di che cosa sto parlando? quando curviamo il diametro della ruota cambia dello pneumatico dello pneumatico ah ok certo centralmente avremo un diametro più andiamo in curva più scendiamo più questo diametro diminuisce alzando il numero di giri si inizia un discorso sportivo quindi il pilota in pista una volta fatta la scalata la staccata arriva con la marcia frena entra in curva e mette una marcia in più ma stiamo parlando di guide estreme cosa che su strada non ce ne accorgiamo neanche proprio per andare a compensare l'alzarsi dei giri dovuti al raggio minore della ruota e quindi avere più gas pronto in uscita di curva non ero preparato a questa cosa e tu devi parlare con me che io ti insegno guarderò il suo video il prossimo però è un discorso che su strada non ci deve assolutamente interessare non avremo roba da tempo sul giro roba da tempo sul giro roba da pista pista pulita sappiamo che cosa c'è dietro la curva ma stiamo parlando di velocità e condizioni completamente diverse che la strada proprio non abbiamo i termini per parlare di questa cosa ogni tanto mi giro perché siamo in una campagna in questa area di sosta tra l'altro sulla via francigena e quindi arrivano persone va bene che ci guardano male allora io direi che se è stato chiaro questo discorso questa chiacchierata con Antonio e con voi non avrei altro da aggiungere su quali sistemi ci sono di sicurezza attivi e passivi ovviamente si potrebbe parlare di sospensioni elettroniche però non stiamo parlando più perché poi molto spesso il traction control è anche collegato ai sistemi di anti-impennata sì l'ho detto prima è distratto ci evita di impennare l'hai detto ma non è detto che c'è anche quel sistema di anti-impennata che anche quello a sua volta ma è correlato se c'è l'action control attivo non ci fa impennare con l'action control con l'action con il traction control attivo elettronico sarà un'impennata controllata su strada non si può impennare no allora parlo di fuoristrada io ma è andato in strada bravo ma è andato in strada va bene un giorno vi racconterà il suo passato motociclistico allora controlli attivi controlli disattivati cosa devo guardare su una moto quando e come quando e come perché partiamo da un presupposto i controlli come dicevo all'inizio sono lì per aiutarci se mi sto approcciando al mondo del motociclismo non pensiamoci neanche a questi controlli se stiamo prendendo una moto nuova ci saranno e andremo col tempo a capirli sapere quando li vogliamo disattivare quando no il principiante io consiglio assolutamente teniamoli sempre attivi ma anche in fuoristrada perché molti mi dicono vabbè ma se in fuoristrada scapito in una salita col traction control non salgo si sale e come se si sale col traction control bisogna saperlo usare come dicevo prima se con l'ABS quando parte dobbiamo affondare sui freni il traction control quando parte dobbiamo tenere il gas aperto e rilasciare la frizione e fare un proprio effetto trattore per esempio vorrei aggiungere che io forse essendo un utilizzatore di moto anche prima dell'invenzione di queste cose detto così sembra 40 anni fa però domenica appunto tu no ma io quasi domenica appunto utilizzando il KTM di Stefano senza BS senza niente mi sono trovato molto meglio nella gestione dei freni perché non ha nulla sì piuttosto che il stiamo parlando anche di una moto con degli artigli e le mousse e le mousse quindi aderenza sul fuoristrada ottima sarebbe dovuto andare in difficoltà più di qualche volta invece invece col tenere molto spesso quante volte te lo dico allora esatto mi dimentico di disattivare in quel caso quando ci stiamo allenando parliamo di fuoristrada quando ci stiamo allenando o quando stiamo facendo un corso in determinate occasioni sono io stesso che dico all'allievo togliamo l'ABS e facciamo alcune prove nel nostro caso dove c'è dove c'è l'esperienza la ricerca della guida un pochettino più personalizzata non sportiva ma personalizzata grazie anche perché arriviamo come si suol dire dalla vecchia scuola quindi abituato con dei cancelli le cosiddette bare sì le bare erano quelle giapponesi potentissime stradali mentre noi appassionati di fuoristrada e per lo meno io di più forse di te perché all'inizio tu eri uno stradista pur e quindi però sempre accoppiato le due disciplini sempre quando andiamo a fare una ricerca della guida un pochettino più personalizzata oppure il fondo è particolarmente viscido o smosso allora in quel caso siccome noi abbiamo una buona sensibilità togliamo tutto ci godiamo la guida e gestiamo noi ABS o meglio il bloccaggio delle ruote lo gestiamo noi anche perché in fuoristrada a volte serve bloccare stessa cosa il traction control andiamo a disattivarlo completamente proprio per affrontare quelle curve o quelle salite scaricando la potenza che serve gestendo la trazione col bilanciamento dei pesi ma qua si inizia a parlare di un discorso un pochettino più tecnico quindi non è questo il contesto e per quanto riguarda la strada io quando vado su strada lascio tutto attivo non vado alla ricerca di guida sportiva di andare forte o di guida particolarmente personalizzata attivo tutto quando mi trovo sotto i diluvi lascio tutto attivo in strada in strada parliamo di asfalto e questo lo consiglio ovviamente al motociclista che si sta approcciando al motociclista che sta imparando o al motociclista che ma è anche in realtà anche al motociclista di esperienza perché comunque sono tutti ausili alla nostra sicurezza esatto perché dico che i sistemi sono lì per aiutarci io molte volte parlo di fuoristrada dove è la situazione più estrema dove tutti questi sistemi partono sempre costantemente a volte io li lascio attivi perché quando sappiamo cosa stiamo facendo abbiamo una buona tecnica riusciamo a gestire anche questi sistemi cioè andiamo a sfruttarli per andare meglio per andare più veloce se vogliamo usare questo termine ma più che altro per andare meglio io invece ma le dico sempre quando dimentico l'ABS attivo perché perché giustamente lui se lo dimentica e quindi lo vorrebbe togliere si dimentica gli parte improvvisamente in fuoristrada che magari stiamo guidando un po' al millimetro fai il dritto fai il dritto e quindi è scomodo però se inizi ad abituarti a gestirlo in curva a gestirlo sul fango vedrai che ci saranno alcuni punti che riuscirai a infilarti con più ancora meglio in strada però qualsiasi tipo di modo in strada sempre attivo sempre attivo ok può bastare io vi invito ovviamente come sempre a partecipare ai corsi vi lascio qua tutti i corsi ma seguitemi qua qua lo metto qua qua mettiamo qua giochi scemi che si fanno in modo seguitemi su instagram perché c'è l'aggiornamento delle date degli appuntamenti che ci sono in giro per l'italia e non solo se riusciamo facciamo un bel sopralluogo all'estero ci saranno delle novità se riusciamo va bene si spera d'accordo ragazzi grazie per essere arrivato fino a qui se non ti sei iscritto non ti cuasta nulla clicca su iscriverti su iscriviti se vuoi attivare la campanellina così ti arrivano anche le notifiche una il sabato te ne arriva e basta 12 e 30 alle 12 e 30 ogni sabato seguiteci anche su Antonio io ti ringrazio infinitamente grazie per questa chiacchierata ragazzi grazie per darci l'opportunità di farci queste chiacchierate con voi grazie per seguirci e ci vediamo al prossimo video gas brillante grande ciao ho imparato era lavanni è vero che non esce mai in moto per quello vabbè perché non esce in moto perché è un ragazzo impegnato eh sì va a fare le serate i compleanni i sposati come dicono qui top beggione top beggione sono Daniele e lui è Antonio pausa vai su whatsapp dove è arrivato e anzi ne approfitto ne approfitto per ringraziare non fare il cafone